E ancora allarme furti ad Eboli. Numerosi sono i casi segnalati dai cittadini in vari punti del territorio comunale. Nel mirino dei ladri in particolare le auto parcheggiate. Circa 10 i casi segnalati in una sola settimana. Una situazione di pericolo che sta preoccupando non poco i cittadini, che sui social chiedono maggiore sicurezza all'amministrazione comunale e alle forze dell'ordine.